Bene, siamo qui in Università di Roma 3, Cecilia Delia del Partito Democratico, capogruppo, settima commissione. Delia, c'è una contestazione che continua a persistere riguardante il giudizio sintetico che verrà a breve votato presso appunto il Senato. Nelle prossime ore arriverà appunto in aula. Voi del Partito Democratico, insieme ai 5 Stelle e altri partiti dell'opposizione, siete fortemente contrari. Ci spiega perché? Sì, questa riforma, chiamiamola così, o controriforma mi verrebbe da chiamarla, è contenuta in un emendamento del Governo, un disegno di legge che interviene sulla valutazione del comportamento degli studenti e delle studentesse. Già un testo molto restrittivo che mette in discussione anche il valore del Consiglio di classe, il giudizio che si dà dei ragazzi e delle ragazze. Su questo, dopo che erano state fatte le audizioni e quindi quando noi avevamo già sentito il mondo della scuola, i sindacati, le associazioni e anche le forze che qui oggi hanno organizzato questa iniziativa, il Governo si è presentato con un emendamento che reintroduce nella primaria il giudizio sintetico. È un modo per tornare a una valutazione selettiva e ordinativa, cioè una valutazione che fa graduatorie dei bambini e delle bambine. Mentre dal 2020 c'era stata una grande formazione sulla valutazione descrittiva, periodica, e quindi una valutazione che sta dentro il progetto educativo, a che fare con la didattica. Quindi una cosa su cui erano stati formati tantissimi insegnanti e insegnanti in tutta Italia e che non si può cancellare così con un emendamento governativo senza nessuna riflessione su come ha funzionato e che cosa significa. Io credo ci sia dietro un'idea sbagliata e cioè che si restituisce autorevolezza agli insegnanti e agli insegnanti dando a loro un po' l'arma dell'ordine e della disciplina. È un'idea perdente per la scuola, che deve essere un luogo inclusivo, un luogo che sostiene soprattutto i bambini e le bambine nel loro percorso di crescita. Senatrice, credo che comunque ci sarà un dibattito in aula. Voi credo quindi vi opporrete all'approvazione di questo emendamento. Ricordo che è all'interno del disegno di legge che riguarda complessivamente anche il comportamento degli alunni e la valutazione in generale degli alunni. Voi qual è praticamente il modello rispetto alla valutazione che invece vorreste portare avanti e far progredire rispetto all'attuale situazione? Intanto una valutazione che sta dentro una progettualità sul bambino, sulla bambina, sui ragazzi e le ragazze. Quindi una valutazione, tra l'altro come ritiene anche lo statuto degli studenti e delle studentesse, che da questo disegno di legge viene cancellato in quel punto, senza nessuna consultazione anche qui degli studenti e delle studentesse, la valutazione come un percorso anche di autocomprensione e di capacità di capire quali sono i punti di forza e di criticità. Noi ci siamo già posti in commissione, presenteremo emendamenti abrogativi di quest'articolo, presenteremo emendamenti che provano in qualche modo a ammorbidire la rigidità di un testo che crea degli automatismi che in qualche modo mettono anche in discussione l'autonomia degli insegnanti, del collegio docenti, del consiglio di classe, nella valutazione. Un'ultimissima, durante il dibattito che adesso è in corso qui a Roma 3 si è parlato anche dell'importanza di una valutazione descrittiva per i ragazzi con il PEI. Ecco, diciamo restringere il campo valutativo dei ragazzi con programmazioni specifiche, personalizzate, è un ulteriore problema? Assolutamente sì. Noi abbiamo bisogno di una valutazione che aderisce alla ragazza e alla ragazza, che tiene conto del contesto, tiene conto della sua storia e quindi anche dei suoi successi in qualche modo, che reattivizza rispetto a lui. Invece con un giudizio sintetico o con i voti numerici, noi torniamo proprio nella catalogazione e classificazione che queste differenze le cancella e di fatto le mette in una situazione di disparità. Anche se non è questa l'intenzione, in realtà quello che ottiene alla fine è questo. Invece noi abbiamo bisogno del giudizio descrittivo proprio per tener conto delle differenze e per sostenere davvero i ragazzi e le ragazze nella crescita. Per concludere il rischio quindi di ritrovarci con una scuola un po' più classista, un po' più discriminante anche? Assolutamente sì, ma mi sembra che questo stia venendo avanti molto chiaramente in qualche modo una politica coerente. Lo dicevo, questo disegno di legge era già brutto senza questo emendamento del governo sulla scuola primaria. Speravo che avessero tenuto fuori la scuola primaria sapendo che è un'eccellenza per salvaguardare quell'esperienza. Invece poi è arrivato questo emendamento governativo, c'è un'idea appunto molto molto gerarchica e un'idea che questo ridà valore alla scuola, un'idea totalmente sbagliata. Grazie a tutti.